Oggi è l'equinozio. Tutti voi sapete cosa vuole dire in termini di Equatore Celeste. Si tratta di una linea immaginaria tracciata sull'equatore terrestre, anch'esso una linea immaginaria, che divide questo pianeta in emisferi nord e sud. Cioè, quel punto in cui i campi magnetici del polo nord e del polo sud si alterano in modi diversi. I diversi campi di energia, come si comportano nell'emisfero nord, e appena attraversato l'equatore, come si comportano, è completamente diverso. Quindi in questo giorno, questo Equatore Celeste è in perfetto allineamento con il Sole. Questo significa che tutte le influenze sul pianeta sono in equilibrio. Il significato dell'equinozio per l'essere umano è che in questo giorno il maschile e il femminile sono alla pari. Nella tradizione yogica, questo giorno è visto come un giorno in cui si ha la migliore possibilità di trascendere le limitazioni e le compulsioni dei propri desideri fisici. Di trascendere le compulsioni lussuriose all'interno del corpo umano. Quella possibilità è al suo massimo. In questo giorno Shiva si sedette come un Ardanari, cioè era metà donna e metà uomo, perché entrambi sono pari oggi. Questo è il giorno in cui le donne sono alla pari con gli uomini. Intendo dire che gli altri giorni sono dominanti. è un terreno di gioco equilibrato all'interno del nostro stesso sistema. E che sia a livello sociale, economico o di altro tipo, l'unica cosa che possiamo fornire è un terreno di gioco equilibrato per tutti. Non puoi rendere le persone uguali. Non funzionerà mai. Ma puoi fornire pari opportunità. Pari opportunità significa semplicemente un terreno di gioco equilibrato. Tradizionalmente è considerato un giorno privo di pregiudizi. È considerato un giorno privo di pregiudizi perché il pregiudizio essenzialmente sorge nella nostra mente perché siamo troppo identificati con qualcosa. qui stiamo arrivando a un aspetto molto basilare dell'essere maschili o femminili. Se sei troppo identificato con l'essere maschile avrai un pregiudizio maschile. Se sei troppo identificato con l'essere femminile avrai un pregiudizio femminile. Quindi l'equinozio un giorno per portare equilibrio in questo per non essere identificato con questo o quello nemmeno con l'essere un uomo o una donna nemmeno con l'essere umano o un'altra creatura solo per sendersi qui e pulsare. o un'altra creatura